Le notizie flash di radiografia, tensione nello studio di Uomini e Donne. Nello studio di Uomini e Donne, grande fermento per una controversia che coinvolge Tiziana, una 53enne collaboratrice domestica di Torino, impegnata nel throne over del programma. Dopo un mese di frequentazione con Angelo, Tiziana ammette di avere un blocco che le impedisce di lasciarsi andare, scatenando un acceso dibattito in studio. Gli opinionisti, in particolare Tina, esprimono dubbi sul comportamento della dama, sospettando che possa essere solo una strategia di gioco. Fosse accaduto solo con te, dichiara Tina rivolgendosi ad Angelo, ma è sempre la stessa giostra. Durante la discussione emergono retroscena sulla loro frequentazione. I due non si vedono praticamente mai al di fuori dello studio a causa dei loro impegni lavorativi. Tuttavia, Tina scopre sui social che Tiziana ha condiviso foto posate in palestra. Suscitando le sue critiche. Fai la piccola fiammiferaia e la top model, ma chi ti crede? Tiziana cerca di spiegare la sua posizione, ma, sentendosi sotto attacco, si rifugia dietro le quinte. Dopo un confronto con Angelo, torna in studio, ma il confronto con Tina continua. Stiamo scherzando? Mi devo giustificare? Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale YouTube per ricevere le ultime notizie. E ora, per concludere la nostra trasmissione, vi invitiamo ad ascoltare la playlist musicale del mese con i successi dei nostri cantautori preferiti, Mitumme e Marco Puggini. Cosa sono? Dove sono? Dove sto andando? Su quale pagina mi trovo? Quale universo? Chi sta guidando? Cosa sono? Dove sono? Dove mi state portando? A quanti passi dal traguardo? Se resto ancora, quanto ci perdo? Mani e lingua legati dai vostri soldati Cervello telecomandato dalla TV di Stato Disobbedisco al sistema Io non piego la schiena Io no, disobbedisco al sistema A questa messa e scena Cosa sono? Dove sono? Quanto costa il mio tempo? Cosa stanno tramando per chi stiamo vivendo? Chi ci sta bombardando? Cosa sono? Dove sono? Qui si sta surriscaldando Bruciano già i piedi onde alte dei metri Ci stiamo estinguendo Mani e lingua legati Mani e lingua legati Dai vostri soldati Cervello telecomandato Dalla TV di Stato Disobbedisco al sistema Io non piego la schiena Io no, disobbedisco al sistema A questa messa e scena Disobbedisco al sistema Io non piego la schiena Disobbedisco al sistema A questa messa e scena Non ho mai capito perché tanto dolore Questa rabbia ormai è una gabbia in cuore Incluso il cuore Deluso da ogni cosa che credevo giusta Gettata nella spazzatura Entrata tutta in una busta Qua è tutto marcio Dalla testa ai piedi Solo se non vuoi vederlo Non lo vedi Quando ti sei reso conto Che è tutto sbagliato È troppo tardi ormai Hanno inventato un altro stato Disobbedisco al sistema Io non piego la schiena Io no, disobbedisco al sistema A questa messa e scena Disobbedisco al sistema Io non piego la schiena Disobbedisco al sistema Questa messa e scena Oh, uh, 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 uh Grazie a tutti 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 Niente Grazie a tutti 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 Amici Grazie a tutti 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 Grazie a tutti